Oggi preparo spaghetti col tonno e olive. Ho messo un po' d'olio, un po' di cipolla, il tonno, la salsa, qualche olivo, inserisco l'ipibi, tre bicchieri di acqua perché ne faccio 300 grammi, il sale, e la pasta. Scuoto un po' così si bagna tutta. Accendo il gas, all'inizio fiamma alta, quindi fornello medio, fiamma alta, e copro con il moci cucchiaio. Nella quadrottina ho fatto un ragù di carne con pomodori freschi e ho miscelato carne di manzo e carne di maiano. Vediamo il vapore uscire dai fori, quindi si abbassa la piamma. Ora controllo. Inserendo l'ipibi in questo primo piatto ho reso la pasta probiotica. Cioè vado ad alimentare la flora batterica, in più diminuiscono le calorie dal 20%. Le controllo. E' asciutta completamente, è cotta e ancora non in piatto perché tra due e tre mesi minuti arrivano i miei. e vediamo il fraccio. E' citare la flora batterica. E' di questa flora batterica. E' da unipide.